Pretene, cabano, esposi urlato, prete, a prete, a prete, del prete, esposi ursino, Monaco, Ioccio Salvatore, Galluccio, Mileto, Musca, Puccio, Manigliano, Saezza, Balsamo, Sofio, Pugliese, Serrata Pallo, Cervone, 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 Cortese, Voluccio, Ioccio Massimo, Vant teaser. Assenti? Assenti? Allora, io parto con la lettura, mi dico consiglieri, delle comunicazioni, che non sono state estremamente troppo, che sono suggestive, però lo tengo un continuo a leggere, perché sono comunque importanti. Il Dio è un istituto, per esempio, la delizia e il vizio di questi giorni ha iniziato una diffusa e scegente scontratta in generale gestione con gli stagini. Il Dio è un istituto, per esempio, la delizia e il vizio di questi giorni ha iniziato una diffusa. Il Dio è un istituto, per esempio, la delizia e il vizio di questi giorni ha iniziato una diffusa. Grazie a tutti. 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 Spiego un attimo a che punto siamo rimasti a beneficio di consigli e anche di chi oggi ha il prefetto. Noi abbiamo votato, cioè il consiglio comunale, 23 articoli di un rinnovamento che è stato presentato all'attenzione del consiglio. Poi i lavori sono stati sospetti, 34, i lavori sono stati sospetti, i lavori sono stati sospetti e oggi vengono vinti, grossi e vinti rispetto a quel consiglio comunale. Io spero che i lavori sono stati sospetti e i lavori sono stati sospetti e io passerò a leggere articolo per articolo come la scorsa volta e i consiglieri dovranno dare a termini della domenica, a termini della domenica, di un'integrazione, di una modifica, poi un'affrontazione dell'azienda. Grazie. Grazie.